Ciao a tutti ragazzi, io sono Stefano Narelli e benvenuti sul mio canale. Sono un ragazzo di Telo Dominicano, nato e cresciuto qua a Milano, con una grande passione per la fotografia e il videomaking. In questo canale vi porterò vlog dei miei viaggi e delle mie esperienze lavorative, tutorial sulle basi e come iniziare con la fotografia, video del dietro le quinte dei miei lavori e varie recensioni personali su attrezzatura fotografica, ad esempio corpo a macchina, obiettivi e varie attrezzature. La mia passione per la fotografia è nata all'incirca 5-6 anni fa e da quando ho preso la mia prima reflex mi sono subito innamorato di questo mondo. Ovviamente non è stato subito semplice, ci sono stati dei periodi ai inizi dove volevo mollare tutto quanto e ho pensato, no, la fotografia non mi piace più, non fa per me, non mi esce nessuna foto bella. Ma poi facendo pratica ed esperienze sono iniziato a migliorare e questa è una cosa che a molte persone scoraggia e non continuano mai con la fotografia. Io sono un'autodidatta, ovvero ho imparato tutto quanto da solo, seguendo vari blog, vari tutorial su internet e leggendomi dei libri sulla fotografia. All'inizio ero molto scoraggiato perché le foto non erano come me le aspettavo e penso che sia successo a tutti quanti, ma sono andato avanti e non mi sono scoraggiato. Ho fatto moltissimi esperimenti, moltissime esperienze, ho fatto molta pratica e ho conosciuto da gente del settore che mi ha aiutato a migliorare sempre di più. Bene ragazzi, spero che mi iscrivete al mio canale e che i miei contenuti possano piacervi. Bella!